addirittura spermata nera merimix merimix mi pare che no ah c'è merimix merimix ha fatto un livello oddio ha fatto un livello grazie per l'oste merimix sannazzo che mi fa i livelli troll così io che muoio poco con i livelli troll muoio di meno questo è come quello di prima vediamo dove è la fregatura più non ci vado da lì sono tentato di capire come mi avresti ucciso aspetta no non vado nemmeno là sotto e qui allora qui mi viene sorgere il dubbio ci sia qualche cosa però allora è un livello troll quindi iniziamo da qui meri come va astiano dimmelo che ne hai fatto un altro dove è nato si si controllo controllo io allora controllo come devo morire io ho visto che eh si ce n'era uno fuori tempo porca miseria sai nazzo che rimango fregato lì adesso anche qui giusto ma lì tutto bene meri tu hai fatto un livello se no mi ricordo male matta quello lì ok non ho ziii minchia ahahahah ahahahah ahah 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 ma vaia perché sono andato a sbattere ma dopo lo proviamo ahah fornuto ahah 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 ecco ok passiamo un po' via ahah ok ahah ahah ahahah ah ahah 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 tu lo sai che io al livello di tempo ma l'ho beccato mai ora che l'ho beccato lo beccherò sempre allora i livelli si se li completo si magari non sembra se qualcuno me li chiede io li posso pubblicare però ovviamente dipende se riesco a finirlo che alcuni li ho pubblicati c'è chi me l'ha chiesto c'è chi l'ho voluto fare basta il problema è che se non lo riesco a finire che ci pubblico fa ma davanti perché prima non lo prendevo mai sto posto e ora si è sì ora questo qui Grazie a tutti. Oh, non mi salta più. Ok. Qui è la fregatura. Perché ce n'è qualcuna che dopo si è uscita fuori sincrono dopo. Eeeh, ok. Ok. Qui Natsu come mi aiuti. Non sporgere. Non spingere. Eeeh, capisco. Qualche dubbio me l'è venuto, però. Ho paura qua di essere rimasto bloccato. No. Qua ci siamo. Allora, qua è un problema. Intanto lo devo fare. Pesciazzo, vai via. Eh, sì. E qui? Allora. Io mi tufferei a pesce su quel checkpoint. Però. Se io mi tuffo su quel checkpoint. Non è qua c'è qualche trappola. Sono convinto che c'è una trappola. No, non c'è. E' stato gentile. Allora, visto che sei stato gentile. Io torno qua dietro. Perché voglio vedere qui. Come si muore. Un attimo. Ah beh, beh. Ormai quello l'abbiamo fatto. Uuuh, no. Mi sono fregato anche qui. Ma tanto c'è il checkpoint, quindi. Me ne sto. Fregando. Allora, allora. Nando facciamo cadere a lui. Perfetto. Un'altra che c'è il checkpoint. Non è un problema morire. Mi, vada. C'è una porta là sopra. Qui c'è la fregatura. Ma è. Le due note. Non le ho prese per poco. Mary. Ora poi giochiamo anche il tuo. Se non ti addormenti prima. Ma. Ma. 1, 2, 3, 4. Vabbè, sta morta la dovevo fare. Comunque giorno 30 inizio. Astral Chain. Oppure 29 sera. Vediamo. Che non so quando mi attivano il codice. Ma perché sto morendo qui? Che è stupido morire qui. Just jump. Ok. No, l'avevo preso. Porca miseria sono caduto. Porca miseria. Boing. 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 Porca miseria. quel mattone lì dai devo capire questa parte come non morire lì c'è quella porta che però camisea me ne voglio di di aprirla e addirittura ok ora stai a vedere come mi fa crepare ora e che cacchio un attimo cosa mi succederà ora per farmi morire mi tuffo comunque c'era una porta scorciatoia però l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta questo per intero glielo conserviamo sul tubo va annazzo ricordamelo natsu tu su discord ci sei natsu no e aggiungiti che se di bene o male ci scampiamo un bel po di cose quando c'è sia l'inscord sia vedi se funziona ancora il link perché stranamente non mi sta funzionando più che poi lo aggiorno metto un altro cerni un altro pollice più su avevo postato non ti funziona sì non so per quale motivo l'hanno cancellato o è scaduto quindi un attimo un attimo un attimo ho messo sopra un altro invito ecco qua ora te lo passo metti questo e ora quanto aggiorno quello di discord lo potrei aggiornare anche da qui se aspettate un attimo lo aggiorno e poi c'è telegram telegram per organizzarci con le partite allora potrei un attimo aggiornare un attimino visto che sono qui vediamo se riesco ad aggiornare il bot un attimo due minuti di pazienza così aggiornare il link che non capisco perché è scaduto nemmeno questo nemmeno questo ti sta funzionando questo è strano boh allora la prossima volta provo telegram e allora poi quello di discord lo devo vedere è strano manco telegram boh non lo so allora c'è qualche altra roba che non va devo controllare sì 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 un link diretto al gruppo già era funzionato quindi funzionava è strano che non sta funzionando più sì sì sia telegram che discord ha funzionato sempre diretto l'invito al gruppo di telegram allora magari è questo infatti andando grazie per un grazie a tutti